ciao a tutti ciao jim anch'io sono qui per dare il mio contributo a questa nuova uscita del tuo libro che approfondisce il lato nascosto della musica la musica vuoi non vuoi edendo la vita di ognuno di noi è indispensabile io mi occupo di un genere totalmente diverso ai tuoi gusti ma ho provato a fare del mio meglio per cercare di piaggerti un bacio e supporto jim grazie a tutti 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 grazie a tutti